Buongiorno, oggi io, Marta, Edoardo e Federico presenteremo in cartesi e la sua presentazione di video mediante una presentazione realizzata da noi sul pezzo. Allora, parto dicendo che Cartesio è uno dei più grandi filosofi matematici della storia e grazie al suo pensiero si segna il passaggio, cioè grazie al suo pensiero contribuisce a segnare il passaggio tra le nascimento all'età moderna. Le riflessioni di Cartesio riguardo all'esistenza e volo di Dio sono contenute nell'opera Meditazioni Metafisiche. Allora, Cartesio mette in dubbio tutto il sapere passato e... Prego! Allora, Cartesio è un dubbio tutto il sapere passato e fa la ricerca di un metodo per vedere quali conoscenze resistono al dubbio che sono più diverse e quali conoscenze non resistono al dubbio sono più di false. Quindi, Cartesio in primis dubbita delle conoscenze sensibili, per esempio facendo riferimento al minuto di Chuan Tzu e la farfalla. Allora, Chuan Tzu che parla di Chuan Tzu che si vede in sogno come una farfalla, dopodiché si sveglia e vede una farfalla. Quindi lui non sa più se è Chuan Tzu che sogna la farfalla oppure se è la farfalla che sogna Chuan Tzu. Con questo Cartesio ci vuol dire che i sessi ci ingannano. Oltre alle conoscenze sensibili, Cartesio dubita anche delle conoscenze matematiche supponendo l'esistenza di un genio maligno che ci fa prendere per perro tutto ciò che in realtà potrebbe magari essere falso assoluto. Quindi chi ci assicura che effettivamente 2 più 2 faccia 4? Quindi Cartesio in questo modo estende il dubbio a ogni cosa che diventa quindi iperbolico o universale. Inoltre abbiamo un'unica, inoltre Cartesio afferma che abbiamo un'unica certezza che è quella che esiste. Ecco, e che esistiamo possiamo dubitare dalle nostre conoscenze e quindi pensare. Da qui la famosa espressione toccinto e consumi. Questo nostro pensare ci permette di avere delle idee, ma comunque chi ci assicura che queste idee corrispondano effettivamente alle realtà fuori di noi? Per questo motivo Cartesio deve dimostrare l'esistenza di un Dio buono che emiglia valore non tanto teologico, quindi non come lo considera la Chiesa, ma valore ignossiologico che fatta quindi la verità. Quindi fatto da Cartesio, Dio che definisce il fondamento del sapere umano e dell'esistenza del mondo esterno. Allora Cartesio elabora le sue prove dell'esistenza di Dio a priori, quindi partendo dal cogito. E per costruire le prove, in particolare, le esamina distinguendole da cosa derivano, quindi dalla loro origine. E li divide in tre idee, che sono le idee innate, le idee ambientizie e le idee fatizie. Le idee innate sono quelle che appartengono a noi stessi, quindi derivano dal nostro io. Invece le ambientizie derivano da fuori, quindi non sono estranee a noi. E poi abbiamo le fatizie, che sono delle idee astratte e sono create e inventate da noi. Adesso esaminiamo attentamente queste idee. Allora, nelle idee innate si concepisce l'idea di cosa o di sostanza. Più precisamente io mi definisco una cosa pensante. Quindi io non ho bisogno di altro, ma ho bisogno soltanto della mia capacità di pensare. E inoltre si definisce il fatto che io sono una cosa e quindi non il nulla. Poi nelle idee ambientizie invece si ha il concetto di cose naturali, per esempio l'idea che io ho di albero, l'idea che io ho di pietra. Quindi esse sono estranee a me, perché io sono una cosa, non sono un albero, non sono una pietra. E poi abbiamo le idee fatizie. Le idee fatizie sono quelle idee astratte che non esistono, quindi sono inventate soltanto da me. Per esempio l'idea che io puoi sapere di un unicorno, oppure l'idea di un albero di pietra, dove si unisce l'idea che ho di albero all'idea che io ho di pietra. E quindi sono astratte, non esistono. Ora, partendo dalla divisione, per quanto riguarda i vari individui di lei, possiamo illustrare le prove che Cantesio porta a sostegno dell'idea dell'esistenza di Dio. Queste prove che Cantesio utilizza hanno tutte origine nella filosofia soapsica, che è una grandissima diffusione durante tutto il medioevo e che affonda le proprie radici nell'aristoteismo. La prima prova che Cantesio utilizza appunto per dimostrare l'esistenza di Dio si basa su un concetto molto importante. Infatti, secondo molti filosofi, la causa di un'idea deve avere in sé stessa almeno tanta perfezione quanto è quella contenuta nell'idea stessa. Detto in parole povere e referendo dal nostro problema, posso io, che sono un uomo, un essere finito e imperfetto, aver creato autonomamente l'idea di Dio, ovvero di un essere infinito, perfetto, eterno e vicente? Perché appeso la risposta è no. Infatti, egli a questo punto ammette, obbligatoriamente, l'esistenza di un essere perfetto e vicente, che appunto corrisponde a Dio, che ha posto, nell'ambiente di tutti gli uomini, l'idea appunto della sua esistenza. Questo ragionamento è considerato un teudo in un'opera del XII secolo chiamata Monologian, che è il quattro per un killing. Ora, la seconda prova invece si basa sulla dimostrazione per assurdo. Infatti, Cartesio, in questa seconda prova, ammette in modo per eliminare la non esistenza di Dio. Ma se Dio non esistesse, allora l'uomo si sarebbe dovuto creare autonomamente. Ma se l'uomo si fosse creato autonomamente, non si sarebbe dato tutte quelle perfezioni, eternità, non esistenza? Che percepisce come il proprio di Dio, davanti a questo ragionamento, Cartesio, mostra quasi come è evidente, come è necessario, il fatto che Dio esista e che abbia creato l'uomo finito e imperfetto, pur dandogli l'idea della sua esistenza, per tanto l'idea di imperfezione e di infinità. Quindi, questa seconda prova ammette il modo quasi stringente per Cartesio per resistenza di Dio. A queste due prove appena spiegate da Doardo, Cartesio mi aggiunge una terza, prima tradizionale e prova ontologica. Essa afferma che non è possibile concepire Dio come un essere estremamente perfetto senza ammettere la sua esistenza, proprio perché l'esistenza è una delle sue perfezioni necessarie. Ok, ora questa frase può sembrare abbastanza complicata, ma in realtà è molto semplice. Partendo dal presupposto che Dio è un essere perfetto, proprio perché se non fosse perfetto sarebbe un essere comune a noi e quindi non sarebbe Dio. Essere perfetto deve per forza, quindi necessariamente, esistere, proprio perché se non esistesse non sarebbe perfetto e quindi non sarebbe neanche Dio. Infatti, per Cartesio, come non si può immaginare un triangolo che ha due angoli retti, non è possibile immaginare un Dio perfetto che non esiste. Questo anche perché per Cartesio il concetto di esistenza è già presente e quindi implicato nell'idea di perfezione. Le proverze di esistenza di Dio suscitarono diverse critiche dei contemporanei di Cartesio, poiché le trovarono non esattamente esaustive e poco stringenti. La prima critica viene fatta da Arnold, che l'accusa di aver creato un circolo vizioso. Infatti Cartesio pretendeva di dimostrare l'esistenza di Dio sulla base del criterio dell'evidenza, ma allo stesso tempo garantiva questo criterio ricorrendo alla esistenza di Dio e quindi creando un circolo vizioso da quale è possibile uscirne, a meno che non si rompa uno dei due principali concetti. La seconda critica invece viene fatta da Cassendi. Lui afferma che l'esistenza non è un concetto presente nella definizione di qualcosa. Infatti quando qualcosa esiste non si intende una proprietà che si aggiunge alle altre, ma che essa è e quindi esiste anche al di fuori dalla nostra mente. Anzi, è proprio questa condizione extra mentale che ci permette di attribuire delle proprietà a una determinata cosa. Cassendi inoltre contesta due capisaldi della prima prova. Il primo è che l'idea di Dio quale è l'ente infinito fosse inata e quindi presente nella mente da sempre. E che la seconda è che tale idea fosse positiva o originaria, ovvero che non deriva né da altri concetti né dall'esperienza. Infatti, per Cassendi, l'idea di Dio, come è l'infinito, è frutto della trasmissione di una certa cultura, della comunicazione tra gli uomini, dell'educazione. E infatti questa idea è anche costruita dalla mente umana per mezzo di quella legazione e di quella finitezza che facciamo esperienza osservando la realtà. Allora, quest'ultima obiezione, Cartesi risponde che... Allora, innanzitutto ripartiamo la computazione di Cassendi dicendo che pensare significa limitare e che quindi il mio pensare non si saprebbe imperfetto e infinito se in me non ci fosse l'idea di perfezione e infinitezza. Quindi, in altri termini, la certezza di sé come essere perfetto esige la certezza di Dio come essere perfetto. Una volta riconosciuta l'esistenza di Dio come ha preso precedentemente scosso Edoardo, il criterio dell'evidenza trova la sua assoluta garanzia. Allora, perché si afferma questo? Dio, essendo perfetto, non può ingannarmi. Quindi, tutto ciò che io trovo chiaro e evidente è vero perché me lo dice Dio e lui, essendo Dio buono e perfetto, non può trarre in errore, ok? Però questo accade soltanto se ciò che mi dice Dio viene adoperato correttamente e questo è un punto molto importante. E Cartesio, inoltre, definisce Dio come un termine medio perché Dio ci permette di passare dalla conoscenza vera di noi stessi, quindi alla verità di noi stessi, alla conoscenza vera e quindi all'evidenza delle altre cose. Adesso, però, c'è un dubbio che sorge spontaneo. Se Dio è buono e perfetto, com'è possibile l'errore in un sistema così come è quello di Cartesio? Allora, secondo Cartesio le cause sono due. L'intelletto e la volontà. Allora, l'intelletto non è limitato, ma è limitato e quindi è, rispetto a quello di Dio, è molto molto esteso. Invece la volontà umana è libera e quindi è molto estesa. Essa ci permette di affermare, di negare, di scegliere un qualcosa o di non sceglierla. Però, essa ci permette di fare queste operazioni anche in ciò che l'intelletto non ci dimostra chiaro e anche in quello che ci dimostra chiaro. Però, se ciò avviene in ciò che non è sufficientemente evidente, si commette l'errore. Infatti, in questa possibilità di affermare o di negare un qualcosa a noi non certo, risiede la possibilità dell'errore. Alla fine l'errore, e quindi, dipende unicamente dal libero arbitrio che Dio ci ha dato. Il libero arbitrio ci permette appunto di fare ciò che noi riteniamo più giusto. Ma questo si può evitare. Questo si può evitare soltanto seguendo unicamente il metodo di cartezio e, in primo luogo, quelle che sono le regole dell'evidenza. E questo è tutto. La presentazione finisce qui e speriamo di avervi intrattenuto e di avervi fatto capire al meglio ciò che cartezio dice su Dio. Grazie.